Ciao ragazzi, allora oggi due parole sul che cosa deve dare una colazione equilibrata ogni mattina. Allora, innanzitutto partiamo da questo presupposto. Arriviamo da tutta una nottata dove il nostro corpo ha lavorato, ha svolto il suo metabolismo e quindi la mattina è un po' stanco, è affamato, è secco, ha bisogno di un aiuto per idratarsi, un aiuto per disintossicarsi, ha bisogno di tanta energia, tanti, gli esperti dicono 100 diversi nutrienti e noi spesso cosa gli diamo? Un bel caffè al volo, piuttosto che cappuccio e brioche, oppure carboidrati bianchi. I carboidrati bianchi come che trovate per esempio all'interno delle brioche, dei cereali, 9 volte su 10 contengono questi zuccheri aggiunti, eccetera, ti danno degli zuccheri che ti danno subito un picco di energia nel sangue ma poi dopo te lo fanno cadere molto velocemente. Questo porta poi il corpo a chiedere nuovamente degli zuccheri, oltre al fattore dell'insulina e le varie problematiche. Quindi bisogna trovare una colazione che possa dare tutti i nutrienti essenziali, soprattutto vitamine, minerali e le proteine. Per la funzione plastica riparatoria dalla notte, visto che il corpo ha lavorato, e soprattutto per formare i muscoli. Più proteine uguale più energia, e quindi c'è la possibilità di implementare il muscolo, velocizzare il metabolismo e andare a bruciare il grasso. Ragazzi, buona giornata e buona colazione!